Sono 43 i positivi riscontrati nelle ultime 24 ore, dei quali 3 sono di Caltanissetta. Riscontro effettuato anche in diminuzione rispetto al fatto che sono stati eseguiti meno tamponi nei giorni delle feste. E però aumentano i ricoveri e ci sono due deceduti. Sono due pazienti positivi e uno di Caltanissetta e uno di Riesi. Rispetto al numero dei ricoveri, come si diceva, sono in aumento. Rispetto a ciò che riporta il report, sono 6 i pazienti ricoverati in terapia intensiva e 45 i pazienti ricoverati in malattie infettive. Per ciò che riguarda Caltanissetta, al momento sono 317 i positivi in quarantena domiciliare, 11 i ricoverati in malattie infettive e uno ricoverato in terapia intensiva. Sono in tutto 1730 i positivi in provincia che stanno a casa in quarantena e 45, come si diceva, i ricoverati. Il paese con il maggior numero di contagi è Gela, 784 in quarantena domiciliare, 17 sono i ricoverati. E poi ancora San Cataldo sono 130 i pazienti in quarantena domiciliare e sono 3 invece i pazienti ricoverati.